Granze, spacciandosi per un rappresentante di profumi, aveva raggirato la proprietaria di un centro estetico e una cliente. Prima aveva fatto anusare delle essenze di alcuni profumi, poi aveva venduto alle donne per 200 euro 5 confezioni di quella che poi si sarebbe rivelata essere della semplice acqua colorata. L'episodio risale al 9 giugno scorso. A distanza di mesi, venerdì mattina, i carabinieri hanno denunciato per truffa l'autore del raggiro, un 36enne napoletano, nulla facente con numerosi precedenti. I militari dell'arma sono risaliti al truffatore grazie ad alcune immagini del circuito di videosorveglianza del comune di Granze.